Alessio Animation Ma manca la scritta Alex dietro Ah c'è il numero uno Eh, Alex è il numero uno Qui c'è Giorgina, eccola dov'è Giorgina Buongiorno caro, come stai? Giorgina Eccole Aspetta che facciamo un primo piano Vai, vai Attento a non farti modi Fabio Bicchiere vuoto Buongiorno Oh calma calma Oh calma Oh Vai Eh bastia che roba Bastia che roba Eh Ragazzi se lo dite così mi fate impazzire Eh no no Oh 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 Oh